Quella indiana è una delle principali industrie cinematografica al mondo, capace di sfornare oltre mille film l'anno che vengono visti mediamente da 400 milioni di persone, non solo in India ma anche nei paesi come Stati Uniti, Regno Unito, Sudafrica, Canada, Germania, dove sono presenti importanti comunità indiane. È Bollywood, un'industria che muove grandi numeri e con un bacino d'utenze in grado di attrarre, nelle location immortalate nei film milioni di persone, come dimostrano i dati del turismo nella nostra regione che indicano nei fattori di aumento dei flussi turistici proprio le destinazioni legate ai film. Una grande opportunità per la Toscana che si è concretizzata quest'anno due volte, nei mesi scorsi con il film Rajapattai, girato a Lucca, Monterigioni e Montecatini Terme e adesso in questo scorcio di fine primavera con Ajab Gazab Love, prodotto da Poja Entertainment and Film Ltd. è diretto da Sanjai Gadbi, girato in questi giorni in alcune location tra Lucca, Viareggio, Lido di Camaiore e Forte dei Marmi. La mia società si occupa di promozione e consulenza in campo turistico e lavoriamo come location manager per produzioni televisive e cinematografiche soprattutto provenienti dal mercato indiano. Il mercato indiano perché lavoriamo molto anche in ambito turistico, più propriamente turistico, però già da due anni più o meno ci stanno contattando alcune produzioni, serie tv, documentari piuttosto che cinema per cercare location qua in Italia. Il mercato indiano conosce molto bene la Svizzera, quindi le montagne svizzere, le Alpi della Svizzera, non conosce quasi niente dell'Italia, ad esempio non sanno che ci sono le Alpi anche in Italia per esempio. E quindi il nostro lavoro è di cercare di portare queste produzioni in Italia perché oltre a quello che trovano in Svizzera, ovvero le Alpi, i Borghi, i laghi, la neve, hanno un panorama di scenari illimitato, soprattutto qua in Toscana. Le amministrazioni comunali, provinciali e la fin comincia in Toscana sono ben disposte ad aiutarci perché comunque capiscono l'opportunità di ospitare un giorno, due giorni o una settimana una produzione di questo calibro, anche più piccolo, anche più grande, perché comunque sì, si creano un pochino di disagi per un giorno, due giorni al traffico, però abbiamo dei casi passati che ci dimostrano come l'impatto poi sia forte sul territorio. Nel film il ragazzo indiano, figlio di un magnate dell'industria automobilistica che ha studiato in Italia, torna in India e si innamora di una ragazza che detesta i ricchi. Per questo il ragazzo si presenta a lei come povero costringendo la famiglia a fare lo stesso. Inizia così l'esilarante storia di una famiglia ricca che per amore si comporta da povera, ma in un viaggio in Italia della coppia di due settimane il colpo di scena. Anche lei aveva finto di essere povera quando suo fratello è una persona molto influente. Una classica commedia Bollywood con l'immancabile Happy Hand. Adesso devi dire, ciao Toscana Film Commission. Ciao Toscana? Toscana Film Commission. Toscana Film Commission è la film commission. Ciao Toscana Film Commission. Is that right? Ciao!